Venga! Madonna, che tutto è stata irranata? Che è pulito? Ah, che non è! Che si può camminare? All'ovire, che si può camminare? La villa è tutta rotta, ma che si può camminare? Oh San Giovanni, che bello, meraviglioso questo campo, meraviglioso, meraviglioso. Bello però, è bello, è molto bello, peccato che non mi la fero io, ma come hai a fare? A questa età come hai a fare? Me l'ha imparata questa cosa, me l'ha imparata. Me ne faccio fare una volta quattro, le chiesti me ne faccio fare, quattro per me, quattro per il mio nepotato, quattro per l'amico, coperto e scoperto. Ghiacchido coperto e poi non ne faranno, ghiacchido coperto sarà una... E la fontana, come c'è finito? Ma tu, la fontana si fottisce? I gallovine, magari la fontana ci fanno fottere. Forse toglieva la visibilità, perché, sai... Tala! Tala! Inghiano d'avvertimento, con rispetto a parlante, giusto? Perché... Giriamo, 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 giriamo... Giriamo, giriamo... Avanti cacca per due, se la villa va... Alla volta... Alla volta... Pono troppo gara, alla volta... Qua qualche pedra c'è, qualche tempone c'è... Qualche mazzacana c'è... Alla volta pono troppo gara... Chi? Chi... Qua siamo... Qua... Fermo... Che noi l'abbiamo coperto e scoperto a sud di Tunese, che è il campo nostro, se voglio guardare che fa caura ancora, fino a dicembre, può essere 15 giorni a gennaio e spendo 400 mila euro per questa cosa, questa specie di manna che ha fatto, questa specie di cosa, 400 mila euro. E la piscina invece che ha dato un campione del mondo ed Europa, che è Luca Marin, è all'abbandono, così si spendono i soldi nella città di Vittoria, senza criterio, è come ci commena ridi. L'unico spazio che è accessibile, vedete, ormai è diventato questo, è diventato questo, perché quando fanno qualche torneia e fanno qualche fotografia, vuole commediare che Luca c'è entra in la villa comunale, che c'è la distruzione, se mangiarlo tutte cose, Vittoriese, se mangiarlo tutte cose. Al tramonto di sera state attenti a queste strane insorgenze che vengono dal terreno, questo è di legno, tanto c'è da scheggiato, che è bulluna, piantato a terra. Qui invece troviamo, diciamo, delle lastre di ferro, di fissatori che fuoriescono dal terreno, non si vedono queste, se li pigliate diritto, precise, arrivate a stirarvi a terra tramortiti. Siamo in uno dei viali centrali della villa comunale, qui vi erano le strutture del percorso ginnico, famosissimo, della villa comunale di Vittoria. Non solo li hanno distrutti, ma hanno lasciato questi residui che sono pericolosissimi per le persone, per coloro i quali vengono qui a passeggiare in tutte le ore del giorno. Noi dovremo fare in modo che questi percorsi siano riabilitati, che questi percorsi siano ripristinati, allargati, ampliati, perché la villa comunale di Vittoria deve ritornare ad essere la più importante della Sicilia. Non è una palla di gomma, è una palla di vetro, ed era messa qui sopra. Credo che l'averla abbandonata sul terreno costituisca un incentivo a derogare dalle cose giuste. E poi si lamentano che i ragazzi fanno danno. Il danno lo fanno loro, non i ragazzini. Occorre fare presto, occorre fare presto perché non troveremo più niente. È vero che ci separano sette mesi dall'elezione, si voterà a maggio del 2016, ma se continuano con questo ritmo e intensità nella distruzione della città, noi non troveremo più niente. Vedete qui, questo è l'affaccio della balaustra principale della villa comunale, che è di per sé una bella e meravigliosa opera che abbiamo realizzato. Inutilizzabile, non si può camminare, ti devi abbassare, per camminare ti devi abbassare, ma è mai possibile questo caro. Carre monnate le immagini, ma che modo è questo? E' assurdo.